L'associato, Altro, vi lascio la parola. Grazie, sono Marco Tadagorio, presidente del gruppo Unogast. Oggi ho due motivi di gioia per essere qui. Il primo è l'orgoglio di diventare il solitore di GNA, che è una rete di imprese importantissima, ci tenevamo. E' la nostra provincia, quindi è un motivo fondamentale, ci impegneremo l'impossibile. Ci passavamo prima l'imperativo di essere all'altezza dell'aspettazione. Non è semplice perché i nostri competitor sono i grandi gruppi, i grandi capitali, la grande finanza. Noi siamo vicini a GNA ed è il secondo motivo di orgoglio oggi perché la nostra origine è dalla piccola media imprende. La Unogast è testimone di questa evoluzione. È nata come piccola impresa, è diventata media, oltre da sfida, che fanno diventare grandi. Vorremmo avere una grande impresa e non un'impresa grande, che non sono esattamente la stessa cosa. Noi siamo abituati a confrontarci contro le imprese grandi. Il motivo per cui abbiamo avuto successo penso che sia dovuto soprattutto al fatto che noi sentiamo e seguiamo il cliente personalmente. Abbiamo un'attenzione non attraverso il call center, come è stato ricordato, ma ogni commerciale nostro ha il suo pacchetto di clienti che segue e cura il telefono in ogni modo che sia possibile, anche attraverso il call center. Quindi oggi, ripeto, sono estremamente contento che seguiamo questa convenzione. Siamo impegnati a fare il meglio di quello che ci è possibile.